Aumentano i morti per il coronavirus, secondo le stime più aggiornate sarebbero 81 le vittime registrate in tutta la Cina, mentre il conto delle persone infette arriverebbe a circa 2744, di cui oltre 1400 nella sola zona di Wuhan. In Italia al momento il virus non ha ancora colpito, ma tre falsi allarmi nel weekend a Milano hanno di fatto aumentato la paura tra i cittadini. Venerdì sera due donne, madre e figlia, hanno fatto scattare il protocollo di isolamento all'ospedale Sacco, entrambe erano appena rientrate da Wuhan e accusavano alcuni sintomi influenzali. Dopo i test però sono risultate negative. Lo stesso è capitato ad una ragazza cinese di 21 anni portata subito in ospedale per verificare un possibile contagio, ma poi dichiarata negativa al virus. E mentre in città tutto era pronto per la tradizionale parata di via Paolo Sarpi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno secondo il calendario cinese, il coordinamento dell'Associazione Cinesi di Milano ha comunicato la decisione di annullare i festeggiamenti previsti per il 2 febbraio, in segno di solidarietà verso il popolo cinese colpito da coronavirus e con la volontà di devolvere il budget per l'organizzazione della sfilata in una donazione verso la Cina e in particolare verso Wuhan. Nel frattempo da oggi si è alzato anche il livello di allerta negli aeroporti. A Malpensa infatti sono scattate le misure straordinarie su ogni volo proveniente dalla Cina. Un nuovo protocollo da seguire farà sì che gli aerei provenienti dalla Cina dovranno restare qualche minuto in più sulla pista d'atterraggio con le porte ancora blindate e prima di sbarcare ai passeggeri verrà misurata la temperatura corporea e se qualcuno dovesse evidenziare eventuali sintomi verrà subito messo in quarantena. I passeggeri verranno poi fatti sbarcare ma comunque registrati e monitorati a distanza. In più da questa mattina in aeroporto sarà presente un'equip medica speciale composta da 32 persone tra medici e infermieri.